Amici cari, eccoci, buonasera. Stasera iniziamo questo nostro incontro leggendovi una ordinanza del Tar Lazio, l'ennesima ordinanza del Tar Lazio che sta demolendo Tar e Consiglio di Stato, giustizia amministrativa, quindi non giustizia ordinaria, giustizia amministrativa che sta demolendo tutte le illegittimità che stiamo vivendo. Passiamo alla lettura di questa ordinanza ma vi devo dire una cosa, nel corso di questo nostro incontro stasera vedremo delle cose pazzesche, vi farò vedere dei documenti pazzeschi. Quindi se volete informare amici, conoscenti, parenti, tenete presente che fra cinque minuti insieme, insieme, cercheremo e troveremo dei documenti che sveleranno questioni di una gravità e di una importanza pazzesca. Allora, indossiamo la toga per leggere insieme una ordinanza del Tar Lazio. Eccola, pubblicata il 4 marzo 2021, come vedete, Tar, sezione terza quadre, ordinanza contro il Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco, per l'annullamento della nota AIFA. 9 dicembre 2020, recante principi di gestione dei casi Covid-19 del setting domiciliare, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Covid, prevede unicamente una vigilante attesa e somministrazione di paracetamolo. Ecco, rivediamo, l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiano, il massimo organo, ha dato disposizione il 9 dicembre 2020, che ai malati di Covid domiciliari, leggete, prevede unicamente una vigilante attesa. Guardate questa frase, AIFA, vigilante attesa, è somministrazione di paracetamolo. Sarebbe la tachipirina, tanto per non fare nomi. E nella parte in cui pone indicazione di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici, di medicina generale, per i pazienti affetti da Covid. Dice il Tar, i ricorrenti fanno valere il proprio diritto-dovere, i ricorrenti sono dei medici di base, coraggiosi, valorosi, audaci, che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto-dovere, avente giuridicamente rilevanza, sia in serie civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza. Il Tar sospende l'efficacia del provvedimento nota AIFA. Ecco l'ordinanza del Tar. Un ringraziamento al Tar e ai medici coraggiosi che hanno impugnato questa nota AIFA. Ecco, vedete, amici, vedete, finché c'è qualcuno che ha il coraggio di impugnare questi provvedimenti illegali, illegittimi, e adesso vedremo spesso mortali, allora avremo finalmente giustizia, ma qualcuno ci deve essere con il coraggio. Ecco perché esistiamo ed ecco perché stiamo facendo le battaglie di diritto e questi sono i risultati. Tanti protestano, ma rimangono a giocare sul divano, a vedere la partita o a giocare alla PlayStation e protestano. Altri si impegnano, altri ci mettono la faccia, altri combattono. Medici di base come il dottor Mangiagalli e il dottor Mariano Amici sono degli eroi perché stanno combattendo questa battaglia per noi, per noi, in scienza e coscienza. E avete visto? Guardate, vi facciamo vedere un documento scientifico sempre che conferma la pericolosità. Sembra, guardate, ma lo dico realmente, sembra che ci sia nata una volontà di genocidio. Sembra, è pazzesco. Adesso vi faremo vedere i documenti, ma li vedremo insieme, li vedremo insieme, sedetevi, state comodi, vedremo dei documenti pazzeschi, ma li troviamo insieme, perché li dovete poter stampare in qualsiasi momento, metterli in tasca, farli vedere al vicino di casa. Ma guardiamo un attimo questa cosa dell'AIFA, riguardiamola e vi faccio vedere un documento. Vedi, l'AIFA prescrive unicamente una vigilante attesa e paracetamolo. Paracetamolo è la terribilina, per cui i malati di Covid a casa devono essere curati in vigilante attesa e con paracetamolo da parte dell'AIFA. Dopodiché leggiamo delle relazioni mediche, ecco qui, questa è del dottor Mangiagalli, che ancora è medico, non lo hanno cacciato, per fortuna, eccolo qui. Leggiamo cosa dice, dire a uno di aspettare e prendere solo paracetamolo è criminale, non lo stiamo dicendo a noi, ecco qui, il dottor Mangiagalli, guardate, è lui, ecco qui, è criminale. Dice questo medico, ma lo dice anche la dottoressa De Mari, lo dice anche il dottor Mariano Amici, il paracetamolo ha un effetto negativo perché consuma glutatione, una sostanza antiossidante che serve per frenare l'iperossidazione negli stati infiammatorio, praticamente un protocollo killer, un protocollo killer. Per fortuna finalmente c'è qualcuno che sta alzando la testa e lo sta facendo davanti ai tribunali. I medici purtroppo appena lo dicono sono messi sotto consiglio di scivilina, vengono cacciati, ma noi li difendiamo in tutte le sedi istituzionali e i tribunali ci stanno dando ragione e ci daranno ancora più ragione e ci daranno ancora più ragione. Qualche altro secondo di tempo per far sì che facciate sapere al vostro vicino di casa che stiamo per farvi vedere dei documenti pazzeschi, stiamo per farvi vedere i documenti pazzeschi, li guarderemo insieme passo dopo passo. Per 30 secondi vi diamo qualche notizia, qualche saluto di amici, nel frattempo stiamo predisponendo i collegamenti e ringraziamo immensamente l'amica Milli di Lugano che sta creando una rete internazionale tra medici e avvocati, la dottoressa Elena del Moigia che sta anche lei predisponendo una serie di interazioni tra di noi. Amici artisti che nonostante quello che sta accadendo stanno creando delle mostre di cultura come la pittrice Ombretta del Monte che nella casa della pittura russa, dell'arte russa a piazza Carole a Roma ha predisposto e ha allestito una mostra di pittura con grandissimo coraggio. La cultura esiste ancora e noi la dobbiamo far rifiorire, non possiamo morire chiusi dentro casa. Stanno per ridarci nuovamente un altro lockdown, chiusi dentro casa a Pasqua fino alle venti, ma adesso vi faremo vedere dove sono i trucchi. Prima di tutto andiamo insieme a vedere dei documenti incredibili. Vi facciamo vedere, guardate, vi facciamo vedere passo dopo passo come li otteniamo perché ve li dovete stampare da soli, perché non sono documenti taroccati che si trovano su internet, ormai taroccano tutto. No, vi facciamo vedere i siti ufficiali dove trovare questi documenti. Vi invitiamo, due cose, questo nostro video salvatelo immediatamente perché molto probabilmente sarà cancellato il più presto possibile e salvatelo divulgato in tutti quante le social che abbiamo a disposizione. Soprattutto stampatevi questi documenti per i fatti vostri, ve li mettete in tasca e distribuiteli agli amici e conoscenti. Sono di un'importanza vitale. Sono di un'importanza vitale. Andiamo a vedere il primo documento. Ecco qui. Allora, facciamo tutti i passaggi insieme. Il computer. Clicchiamo. Allora, sindacato. Allora, sindacato. Sindacato. Aeronautica. Aeronautica militare. Eccolo qui. Sindacato. Aeronautica militare. Ok? Mettiamoci anche italiano. 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 No. Ecco qui. Sindacato italiano. Aeronautica militare. Via. Eccolo qui. Guardiamo. Eccolo qui. Guardate. Vedete? Sindacato. Quindi non è una cosa taroccata. Vi stiamo facendo vedere un sindacato dell'aeronautica militare. Eccolo qui. Guardate. AstraZeneca. Guardate. Clicchiamo. Guardate. Questo è il simbolo. Clicchiamo. Vaccini anti-covid. Facciamo chiarezza. I vaccini anti-covid devono essere somministrati esclusivamente su base volontaria. Eccolo qui. Il consenso informato deve essere compilato al momento della vaccinazione solo ed esclusivamente da chi sceglie di vaccinarsi. Si evidenzia che in molti reparti è in atto una vera e propria schedatura del personale che decida di vaccinarsi. Questo è vietato. Ecco qui. Sindacato. Aeronautica militare. Documento incredibile che finalmente viene alla luce. Nulla più si può nascondere. Andiamo alle altre notizie particolari. Allora. 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 Andiamo. Torniamo indietro e adesso vi faremo vedere il documento incredibile di questo nostro. Di questo nostro incontro. Allora. Digitiamo. Digitiamo AIFA. AIFA. AIFA sapete è il. È il. L'agenzia del farmaco italiano. Ecco qua. Leggiamo. Bugiardino. Vaccino. covid. AstraZeneca. Ecco qui. Leggete. Foglio illustrativo. Banca dati del farmaco. Eccolo. Questo è il vaccino che ci stanno per inoculare. Guardate eh. Lo leggiamo insieme. Vi faccio che guardate. È è interessante leggerselo tutto eh. Vi fa. Ma andiamo alla parte essenziale poi. Poi ve lo leggerete con calma. Ecco qua. Fiato corto. Mal di testa. Dolore articolazioni. Ingrossamento degli infonodi. Lasciamo tutte queste cose. Ve le leggerete poi con calma. Così chi vuole può può terrorizzarsi. Allora. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere la composizione. Allora. Siete pronti? Sedetevi eh. Allora. Una dose contiene adenovirus di scimpanze che modifica per la glicoproteina spike prodotto in cellule renali embrionali umane geneticamente modificate mediante tecnologica del DNA ricombinante. Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati. Firmato AIFA 22 2021. Eccolo qui. documento ufficiale. Guardatelo. Fotografatelo. Portatevelo in tasca. Guardate. Amici anche di Facebook. Noi non facciamo nessun commento. Non stiamo commentando. Stiamo facendo vedere un documento ufficiale statale dell'AIFA. Documento ufficiale statale e non facciamo un commento. Non facciamo un commento. Stiamo facendo vedere agli italiani pubblicato sul sito di AIFA l'Istituto del farmaco. Ecco qui la composizione del vaccino che ci intendono somministrare. E non facciamo nessun commento. Stampatevelo. Mettetelo in tasca. Distribuitelo a tutti i vostri amici. Allora. Allora. Il nuovo governo. Eccolo. Lockdown in tutta Italia in zona rossa. Pasqua e Pasquetta coprifuoco alle ore 20. Questo perché? 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 Sta dilagando il virus. Nel senso che ogni giorno ci sono tanti nuovi casi. Tanti morti. E quindi il governo dice tanti casi. Tanti morti. Chiudiamo l'Italia. Ma uno dei più grandi tecnici virologici italiani come si chiama? Bassetti. Ve lo ricordate? Che cosa dice Bassetti? Scusate. Bassetti. Abbiamo sbagliato a contare i decessi. Anche che aveva un infarto con un tampone positivo veniva registrato Covid. Ecco il titolo. Ecco la fotografia. Bassetti. Abbiamo sbagliato a contare i decessi. anche che aveva un infarto con un tampone positivo. Veniva registrato Covid. Dobbiamo dire qualche cosa? Dobbiamo aggiungere ancora qualche cosa? Questa sera non aggiungiamo nulla. Abbiamo letto insieme documenti e dichiarazioni tutte ufficiali. Diffondiamole. Basta diffonderle perché si sappia la verità. Noi vogliamo la verità. E insistiamo. Continuiamo con le nostre azioni giudiziarie. Continuiamo con le nostre azioni giudiziarie. Saranno quelle che demoliranno il sistema delle illegittimità. Ci vediamo domenica sera con grandissime ulteriori novità. Un abbraccio a tutti.